Eccomi qua, sono arrivato nella mia stanza in hotel qui a Shinjuku e vi faccio vedere un po' com'è la stanza non è anche piccolissima come a volte succede non è grande per carità però, allora, qui c'è l'entrata qui c'è il posto valigia e poi qui c'è il letto e qui vedete ci sono altri posti valigia i posti valigia sono tattici perché poi di solito in altre stanze che avevo visto c'era solo tipo un posto per la valigia tipo qua e là zero cioè tipo un corridoietto, una cosa assurda poi c'è il bollitore per l'acqua poi giù c'è il combini dove si può comprare, che ne so il ramen istantaneo, altre cose poi magari vi farò vedere questo è, beh, le solite cose, insomma comunque questo è il phon questo qua è interessante comunque il bollitore, anche perché è proprio comodo poi c'è il bagno c'è la vasca che è piccola di lunghezza ma è molto alta e ecco, è bello perché può andare giù fino a qua e poi che c'è? allora c'è i saponi adesso mi tolgo i saponi e lo spazzolino da denti un mini dentifricio, vabbè, ne ho a iosa di queste cose e poi qui c'è il WC con i tastini speciali poi tutti gli accorgimenti e i tastini speciali poi vi farò vedere, non adesso vi spiegherò un'altra volta perché sennò mi mangio tutte le cose da farvi vedere il primo giorno poi che dire dai carini, dai saponi qua vabbè ah, vi faccio vedere fuori velocemente e allora quello là è Tokyo Metropolitan Government Office questo è il Washington Hotel qualche casetta e questo è Park Hyatt e se riesco a farvi vedere anche dove ho mangiato io andiamo a rifarci del male vi faccio vedere dove ho mangiato io vedete nella torre più alta quella là eccola lì ecco io ho mangiato lì praticamente quasi tre anni fa è un ristorante bellissimo proprio però costa una cifra assurda e infatti non ce l'ho quest'anno Washington Hotel qui davanti a me costa un po' eh quello Washington Hotel e anche Keo Plaza che secondo me è esagerato perché andare a spendere tutti quei soldi per una stanza che alla fine è come questa boh bene vado a farmi una doccia e poi esco ciao 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 Grazie a tutti.